In questo momento non parlo, se parliamo volevo fare giusto una battuta sull'Odi perché io credo che nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve dire e chiedere solamente scusa e dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica.